Sarebbero trovati a Notizie di Prato Tg. Partiamo dalla politica perché nel pomeriggio è arrivata una notizia attesa da molte settimane nel centro-destra. Finalmente c'è il nome del candidato sindaco di tutta la coalizione e non c'è nessuna sorpresa. E' il funzionario di Confcommercio Daniele Spada. Lunedì Matteo Salvini che sarà a Firenze ma non a Prato benedirà questa candidatura così come farà con quella di Firenze e con quella di Livorno. Sentiamo Claudio Vannacci. Daniele Spada è il candidato sindaco per il centro-destra a Prato. Dopo settimane di trattative estenuanti con il ballottaggio Spada-Pieri che ha tenuto banco con toni anche molto accesi, è stata dunque trovata l'intesa nel centro-destra sulle candidature nelle città capoluogo della Toscana che andranno al voto. Oltre a Spada gli altri nomi indicati sono quelli di Ubaldo Bocce a Firenze e Andrea Romiti a Livorno. Il via libera è avvenuto nel corso di una riunione a cui hanno partecipato i tre leader Matteo Salvini per la Liga, Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia e Silvio Berlusconi per Forza Italia. L'annuncio ufficiale verrà dato dal ministro Matteo Salvini che il lunedì sarà a Firenze ma non a Prato come indicato inizialmente. Purtroppo Salvini non potrà venire a Prato, spiega la coordinatrice regionale della Liga Susanna Ceccardi. Soddisfatto e non poteva essere altrimenti Daniele Spada che in queste settimane è rimasto a lungo sulla graticola di una decisione che tardava ad arrivare, anche per la ferma opposizione di Forza Italia ed Energie per l'Italia che puntavano tutto su Rita Pieri. Forse qualcosa di quello detto si poteva evitare, esordisce Spada, ma di sicuro non è stato tempo perso. In queste settimane abbiamo lavorato molto per mettere a punto sia il programma sia la squadra di governo e sono sicuro, afferma il candidato del centrodestra, che adesso andremo avanti compatti verso quello che è l'obiettivo di tutto il centrodestra, vincere le elezioni e governare la città di Prato. Intanto tra le prime mosse ci sarà quella di creare una lista civica di sostegno diretto alla candidatura di Spada, dove confluiranno esponenti della società civile sganciati da logiche di partito. L'ufficializzazione del nome di Spada pone fine al dualismo in essere finora con Rita Pieri, la quale, interpellata, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Resta da capire a questo punto se possa essere anche lei della partita, ma con una lista alternativa sia al centrosinistra sia al centrodestra. Vedremo nei prossimi giorni vari posizionamenti. Intanto passiamo alla cronaca. Quattro arresti effettuati dai carabinieri nel giro di poche ore, tutti in esecuzione di ordine di carcerazione messi dalla magistratura a carico di altrettante persone. In particolare i militari del radiomobile hanno rintracciato e arrestato un cittadino di 26 anni di origine albanese, destinatario di ordine di esecuzione della carcerazione per espiare la pena di 10 mesi per reati contro il patrimonio. I militari della stazione di Prato invece hanno messo le manette ai polsi di una cittadina cinese sulla quale pendeva un provvedimento di carcerazione per aver fornito false generalità nel corso di un controllo di polizia. I militari della tenenza di Montemurlo infine hanno dato esecuzione a due provvedimenti di custodia cautelare in carcere messi dall'autorità giudiziaria pratese nei confronti di due cittadini di origine marocchina di 37 e 31 anni per non aver ripetutamente ottemperato alla misura del divieto di dimora e affidamento in prova inizialmente messe nei loro confronti per reati concernenti, gli stupefacenti. Parliamo di un controllo della polizia municipale a un bed and breakfast gestito da una coppia cinese in via Filsi. In realtà era un vero e proprio albergo con tanto di suite e quindi sono partiti i sequestri. Sulla carta risultava un banale affittacamere bed and breakfast ma in realtà era un vero e proprio albergo con 11 camere di cui una a tre posti letto e una suite. La scoperta è stata fatta dalla polizia municipale di Prato in un immobile di via Filsi che quindi è stato sequestrato. La legge sul turismo della regione toscana indica che l'affittacamere bed and breakfast è compatibile con la residenza solo fino a 6 camere o 12 posti letto. In questo caso i due coniugi cinesi, gestori dell'attività, avevano presentato la richiesta per un grande appartamento di sei vani ma abusivamente attraverso un varco nella muratura avevano annesso anche l'appartamento vicino mettendo quindi a disposizione della clientela 11 camere con numerazione in sequenza fino alla numero 11 che era la suite con salotto e caminetto, camera matrimoniale e servizio igienico. Gli agenti hanno contestato ai gestori e affettuari di entrambi gli appartamenti la realizzazione di una struttura alberghiera in assenza dei parametri urbanistici necessari quali parcheggi ed infrastrutture collegate. Entrambi risultavano residenti nell'appartamento collegato abusivamente all'originario bed and breakfast ma si erano trasferiti nelle soffitte che avevano allestito impropriamente ad uso abitativo con cucina e letti in luoghi igienicamente inidonei. E allora veniamo ai trofei di Yuri Keki che sono stati comprati dalla Reale Foundation a 70.000 euro per ristrutturare la palestra Etruria dove il Signore degli Anelli ha mosso i primi passi nel mondo della ginnastica. Vediamo come saranno impiegati per riportare a nuova vita questo spazio. Alessandra Grati Torna la luce e il riscaldamento e verranno realizzate anche altre migliorie nella palestra Etruria dove si è allenato Yuri Keki. A mettere la parola lieto fine alla vicenda che ha appassionato anche i media nazionale la Reale Foundation. Reale Foundation donerà 70.000 euro per la rivitalizzazione della palestra Etruria di Prato. I trofei rimarranno qui, rimarranno all'Etruria. Siamo venute a conoscenza attraverso Rai 3, attraverso la trasmissione di Fazio e ci siamo attivati non appena possibile, quindi lunedì mattina. Abbiamo chiamato direttamente la presidentessa della palestra Etruria che ci ha messo in contatto con Yuri. Una soluzione che è piaciuta al Signore degli Anelli che la settimana scorsa aveva annunciato di mettere all'assi i suoi trofei pur di salvare la palestra. Sono molto contento di aver raggiunto due obiettivi per me molto importanti. Il primo principale è quello di trovare delle risorse davvero importanti per l'Etruria che gli possano dare un futuro non a breve termine ma a lungo termine e anche la possibilità di non allontanarmi dai miei trofei perché comunque evidentemente era un gesto simbolico ma anche da un punto di vista concreto mi sarebbe dispiaciuto disperderli e non averli più vicino a me quindi i trofei anche per un gesto simbolico andranno tutti nell'Etruria di Prato quindi vicino a casa mia perché sono proprio vicino e se mai avrò un po' di nostalgia so dove andare a vederli. I lavori inizieranno a breve e tutte le spese verranno rendicontate in modo trasparente. Noi abbiamo delle urgenze nell'immediatezza, la prima cosa è ripristinare l'impianto di illuminazione che al momento non è sufficiente e quindi partiremo da quello. Poi l'ambizione è quella di poter far ripartire anche l'impianto di riscaldamento per affrontare l'inverno in maniera più adeguata per i bambini che verranno ad allenarsi e quindi fatto questo insomma sarebbe già un altro modo di vivere la palestra. Ed è pronta per il prossimo autunno la nuova viabilità tra Iolo, Tobiana, Casale e Vergaio. Vediamo. Sarà pronta per l'inizio del prossimo autunno la nuova viabilità che collegherà Iolo a Tobiana, Casale e Vergaio e quanto è emerso stamani durante il sopralluogo congiunto al cantiere delle commissioni 3 e 4 presidute rispettivamente da Luca Roti e Massimo Carlesi. Perché questo è importante? Perché attualmente tutto il traffico si scarica su via Periolo, una strada molto stretta, in mezzo alle case, molto pericolosa anche con marce a piedi piccoli, mentre qui si mette in sicurezza veramente un collegamento importante. Il fulcro dell'intervento, frutto degli oneri di urbanizzazione e della lottizzazione artigianale del consorzio di Tobiana, è il sottopasso dell'autostrada 11 realizzato con la tecnica dello spingitubo senza interrompere mai la circolazione stradale. La tecnica è quella dello spingitubo, è una tecnica brevettata da una società di Livorno tramite la quale abbiamo potuto realizzare il manufatto tutto fuori dalla piattaforma autostradale e l'abbiamo spinto con dei mattinetti idraulici non bloccando mai la viabilità all'interno dell'autostrada. L'intervento proseguirà con la realizzazione delle rampe di raccordo con la viabilità già esistente, l'asfalto e i collaudi. Questo passo non verrà utilizzato dai pedoni e le biciclette perché sono pericolosi, per cui il collegamento pedociclabile verrà fatto attraverso la pista ciclabile adiacente al sottopasso. L'intervento prevede anche una serie di opere idrauliche per evitare che il sottopasso venga allagato e per incamerare le acque piovane provenienti dai teti dei capannoni artigianali della lottizzazione con reemissioni in falda senza gravare sulla fognatura pubblica. Nuovo ingresso per Palazzo Pretorio e quindi viene realizzato il progetto di Gaia Aulenti. Il progetto di Gaia Aulenti per Palazzo Pretorio è diventato una realtà. L'ingresso è stato spostato davanti al bacchino, sempre in piazza del comune, ma questa non è l'unica novità. L'atrio ospiterà il bookshop e il punto informazioni turistiche accessibili quindi senza pagare il biglietto. I lavori sono costati 120 mila euro e comprendono anche la realizzazione di una sala conferenze attiva al bookshop. C'è un ritorno al progetto originario di Gaia Aulenti e poi di Bianca Balestrero con l'ingresso da piazza del comune in faccia alla fontana del bacchino. Abbiamo colto questa occasione sulla quale lavoravamo da un pezzo anche per riunire alcune funzioni. L'accesso al bookshop alla libreria di Palazzo Pretorio sarà da oggi in poi libero, non sarà necessario pagare il biglietto per potervi accedere e all'interno del bookshop sarà anche possibile godere delle informazioni turistiche. Modifica anche per il percorso museale. Subirà una piccola variazione per permettere l'accesso alla nuova spezzeria dove è stato esposto anche il portone del Monte dei Pegni datato 1500. Questo portale è rimasto praticamente all'esterno del palazzo fino agli anni 20, fino al 1925 circa come ci racconta Cado Cerretelli e poi fu portato nel cortile a seguito dei restauri che in quel momento si stavano facendo al pretorio. Rimasto nel cortile e poi fino agli ultimi lavori di restauro quando fu portato appunto al centro restauro piacenti dove è rimasto e finalmente è stato restaurato. Modifiche invece all'esterno del palazzo dove i locali del punto informativo di piazza delle bigonce verranno utilizzati dal negozio dell'Atipico che avrà ingresso su via Cairoli. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Buona serata. Notizie di Prato Tg torna domani.